Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi non è una presa per il culo, lo schermo è nero ma il video partirà tra poco questo video non è il mio, non ho potuto realizzare io il video per motivi di tempo quindi questo video è di dark glitch ragazzi, non ho rifatto il comment per correttezza nei suoi confronti, quindi il suo canale lo trovate tra i miei canali amici fateci un salto, anche lui porta glitch di GTA, detto questo un saluto a tutti e avanti con il video, ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale allora ragazzi questo è il glitch, diciamo che è un money free perché è il glitch dei appartamenti e si dice che sia difficile però secondo me non è difficile, l'unica cosa è che c'ha dei tempi abbastanza lunghi quindi viverà fuori un milione e mezzo ogni 10-15 minuti dopo è normale, io ho registrato il video, ho preso la live e mi ci vuole di più però sono sicuro che in 10-15 minuti una volta che avete imparato bene il glitch potete fare un sacco di soldi comunque passiamo al glitch ragazzi in pratica dovete avere 6 appartamenti sul primo personaggio e 6 sul secondo voi ragazzi dovrete entrare con il primo personaggio online, cioè con il personaggio principale quindi sul personaggio principale andiamo su internet e andiamo a comprare 3 appartamenti più costosi quindi al quarto, al quinto e al sesto posto quindi il primo personaggio, quello principale che avete dovete comprare quarto, quinto e sesto posto gli appartamenti dell'Eclipse Tower perché sono quelli che costano di più e li mettete quarto, quinto e sesto posto solo questi posti vi dà i soldi ragazzi quindi non sprecate soldi per mettere al primo, al secondo e al terzo perché non funziona sicuramente funziona anche con il CEO e con la Clubhouse perché io in passato l'avevo fatto anche con il CEO e la Clubhouse però siccome non ho tempo non ho potuto sperimentare già così ho tagliato abbastanza del glitch originale che aveva pubblicato Giraffe una volta che avete comprato i 3 appartamenti più costosi sul personaggio principale entrate con il secondo personaggio quindi andiamo e entriamo con il secondo personaggio ragazzi sul secondo personaggio invece al quarto, al quinto e al sesto posto dovete comprare gli appartamenti meno costosi quindi riandiamo di nuovo su internet andiamo su Dynasty 8 e compriamo gli appartamenti meno costosi al quarto, al quinto e al sesto posto in pratica noi prenderemo il prezzo dei appartamenti dal primo personaggio e lo porteremo sul secondo quindi voi non perderete i appartamenti costosi sul primo personaggio voi guadagnerete solamente il prezzo di quell'appartamento sul secondo personaggio quindi se voi dopo andate a venderlo insomma è un po' complicata da spiegare però dopo lo vedete in pratica dovete come ho detto quarto, quinto e sesto posto e comprare gli appartamenti meno costosi una volta che avete fatto ciò uscite dall'online andate nella storia una volta che siete nella storia andate sul tasto PS lo tenete premuto e chiudete l'applicazione GTA mi raccomando andate nella storia quando siete sul secondo personaggio uscite direttamente dopo che avete comprato gli appartamenti meno costosi andate su opzioni e uscite dall'online andate nella storia e chiudete l'applicazione quando la riaprite l'applicazione ragazzi perché subito dopo dovete aprire l'applicazione dopo la dona in bikini tenete premuto L1 ed R1 finché non vi chiede di ricalibrare il schermo così vi cancella i dati del gioco quindi una volta che siamo ritornati nella storia andiamo su opzioni andiamo su online e andiamo su crew e accettiamo le politiche della Rockstar ritorniamo nel gioco e andiamo sulla modalità regista salviamo qui dovete salvare il salvataggio per fare di nuovo il glitch da questo punto qui lo dovete fare il glitch cioè dal punto dove voi chiudete l'applicazione non c'è più bisogno di fare primo e secondo personaggio quindi solamente dal punto dove chiudete l'applicazione una volta arrivati nella modalità regista andiamo su attori ragazzi e andiamo su personaggi online il nostro secondo personaggio quello con i appartamenti meno costosi lo aggiungiamo ai preferiti con il triangolo io già l'avevo aggiunto in precedenza quindi voi se non ce l'avete aggiunto e aggiungetelo con triangolo una volta aggiunto il personaggio online andiamo su animali e aggiungiamo il falco il piccione qualsiasi volatile ragazzi l'importante è che sia volatile quindi aggiungete anche il volatile ai preferiti io ho aggiunto il falco quindi una volta che avete aggiunto anche il volatile ai preferiti andate indietro cerchio cerchio e andate su attori preferiti e scegliete il falco ragazzi scegliete il volatile che avevate aggiunto ai preferiti quindi attori preferiti ci butterà sul attore online e poi ci scegliamo il falco premete X per uscire sulla modalità regista con il falco allora ragazzi io sul video ho scordato di farlo in pratica dovete andare sul tasto PS appena vedete il falco dovete andare sul tasto PS e andare a prepararvi un'attività dove c'è scritto Avia GTA Online vi posizionate su Avia GTA Online e fate due volte PS per ritornare qui dove è il falco una volta fatto ciò ragazzi vi dovete alzare in aria in aria con questo cazzo di uccello qua vi alzate in aria e prendete di mira un palazzo alto oppure una casa un muretto dritto comunque sia e vi posizionate sulla direzione di quel muretto dritto una volta che avete fatto ciò tenete premuto il menu interazione andate su esci dalla modalità regista e non appena l'uccello arriva vicino al muro premete esci dalla modalità regista però non tanto vicino e non tanto lontano quindi esci dalla modalità regista accettiamo il primo messaggio doppio tasto PS Avia GTA Online se vi fa come mi ha fatto a me qui fate sempre doppio tasto PS Avia GTA Online finché non vi da questo messaggio su questo messaggio fate cerchio l'uccello cadrà giù per terra e vi scriverà massacrato rega una volta che vi scrive questo in pratica vi farà una schermata infinita nera voi dovete ripremere di nuovo doppio tasto PS Avia GTA Online e cancellare di nuovo il messaggio e praticamente sarete con il falco oppure la papera quello che ci avete voi nella modalità cioè nella storia una volta che siete lì all'ospedale dovete di nuovo aprire il menu interazione e andate di nuovo su modalità regista una volta sulla modalità regista andiamo su attori preferiti e andiamo sul nostro personaggio online clicchiamo X per uscire sulla modalità regista una volta in strada ragazzi questo è un passaggio abbastanza semplice non è complicato però dovete essere abbastanza veloci anche qui dovete aprire il menu della modalità regista e posizionarvi su Esci dalla modalità regista come vedete già l'applicazione di Avia GTA Online ci sta già quindi non vi dovete preoccupare allora ci posizioniamo su Esci dalla modalità regista premiamo Esci dalla modalità regista X per accettare il messaggio doppio tasto PS X su Avia GTA Online e cerchio sul messaggio nero e ci porterà nella storia con il nostro personaggio online quindi ricapitoliamo X su Esci dalla modalità regista X su questo messaggio doppio tasto PS X su Avia GTA Online e cerchio sul messaggio nero e come vedete siamo nella storia con il nostro personaggio online adesso dovete fare il codice per la caduta dal cielo oppure il volo chiamatelo come vi pare però mi pare che su Google c'è scritto codice caduta dal cielo qualcosa del genere comunque è L1 L2 R1 R2 sinistra 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 e vi farà cadere dal cielo rimaniamo qui per circa 5-10 secondi e poi premiamo il tasto opzioni una volta su opzioni andiamo su cambia personaggio ci farà una schermata di caricamento ci farà unire a GTA Online però non ci farà entrare ci darà un messaggio di errore rimaniamo su quel messaggio sempre 5-10 secondi lo accettiamo e ci riporterà nella storia quindi rimaniamo su questo messaggio premiamo X per accettarlo e dopo ci riporterà nella storia quindi una volta che sarete nella storia dovete ripetere i stessi passaggi sicuramente vi verrà molto più semplice andiamo su modalità regista di nuovo andiamo su attori preferiti scegliamo il falco come al solito una volta in strada con il falco ci alziamo in volo e lo posizioniamo verso una parete è come il glitch dei completi ragazzi ho visto un po' di tempo in giro quindi penso che chi ha fatto i completi è facile anche fare questo glitch allora rifacciamo tutti i passaggi muretto esce dalla modalità regista accettiamo il messaggio doppio tasto PS X o a via GTA online e cerchio e ci riporta nella storia con la passera sulla schermata nera fate di nuovo doppio tasto PS e sarete nella storia andate di nuovo su modalità regista scegliete il personaggio online ragazzi e ritornate in strada con la modalità regista ci posizioniamo su esci dalla modalità regista facciamo X su esci X sul messaggio doppio tasto PS X su a via GTA online e cerchio quando saremo nella modalità regista ragazzi cioè nella modalità storia dobbiamo rifare di nuovo il codice di caduta al cielo andiamo di nuovo sul online e stavolta non andremo più sul seleziona personaggio ma andremo sul creatore ragazzi e praticamente il glitch è quasi fatto diciamo perché è quasi fatto? perché anche adesso ci starà un passaggio importante a voi vi porterà nell'online con il primo personaggio voi non appena vedete il primo personaggio ragazzi dovete fare cambia personaggio cioè nel senso dovete andare su opzioni online e fare cambia personaggio e a questo punto il glitch ragazzi è fatto perché voi cambierete metterete il secondo personaggio e non appena entrerete online con il secondo personaggio ragazzi praticamente al quarto al quinto e al sesto posto vedrete che avete i soldi del primo personaggio cioè avrete 550 sul sesto 490 sul quinto e 480 sul quarto o qualcosa simile e avrete guadagnato un milione e mezza più o meno raga riguardatevelo e riguardatevelo ancora questo glitch e riguardatevelo ancora se non avete capito qualcosa se non avete capito magari qualche passaggio che è abbastanza difficile mi scrivete sotto nei commenti io vi risponderò oppure entrate sul mio gruppo telegram però se siete bastardi io sul gruppo telegram non vi ci voglio quindi solamente se siete brave persone entrate nel mio gruppo telegram e niente secondo me questo glitch è abbastanza semplice l'unica cosa ho detto ci vuole tanto tempo tra i caricamenti se avete una connessione buona è meglio ancora perché vi si carica ancora più in fretta se no fatelo lo stesso perché è un glitch semplice e poi vi volevo dire del money freeze state tranquilli perché tanto uscirà se non è questa settimana come ho detto sarà la prossima se non sarà la prossima sarà dopo il nuovo DLC in arrivo comunque il money freeze uscirà non comprate account glitchati non comprate soldi sui account non comprate un cazzo di niente perché perché non vale la pena come vedete ragazzi io adesso sto andando sui appartamenti faccio su ordina per prezzo vado a comprare un appartamento da 25.000 dollari e guardate un po' al quarto al quinto al sesto posto guardate i nomi dei appartamenti e guardate il prezzo che mi rida indietro se voi andate a vedere su internet quanto costa questo appartamento del sesto vedrete che costa 27.500 circa e a me invece merita indietro 550.000 se metto un altro appartamento a basso prezzo quindi praticamente voi adesso che dovete fare dovete ricomprare tutti questi tre appartamenti mettere i appartamenti che costano di meno e rifare di nuovo il glitch e praticamente andando così in due tre ore vi fate quei 10-20 milioni raga i glitch purtroppo questi sono se voi non vi accontentate dei glitch non li fate se voi magari volete aspettare il money frizz aspettate il money frizz ma non è detto che il money frizz sia semplice se voi siete capoccioni diciamo per non chiamarvi in un'altra maniera andate a comprare account glitchati o modati o andate a farvi mettere i soldi sui account questo dipende tutto quanto da voi ma secondo il mio parere io preferisco farmi un account da solo lavorare su quell'account piuttosto che pagare 100 euro per una cosa che non è mia perché voi quei account quei soldi li spenderete in GTA e vi stuferete prima o poi in pratica è come se uno cioè se tu c'hai voglia di farti una cosa te la fai se viene qualcuno e te la da gratis non la vuoi più quindi voi pensatela come vi pare io la penso così comunque ho detto cambiate tutti e tre i appartamenti mettete di nuovo quelli che costano poco e uscite di nuovo da GTA Online andate di nuovo nella storia chiudete di nuovo l'applicazione e rifate il glitch ragazzi bene io vi ho trattenuto abbastanza per questo video è tutto e forse pubblicherò qualche altro video particolare diciamo perché ho qualcosa tra le mani niente iscrivetevi se non siete iscritti se vi va lasciate un bel like e anche il dislike va bene lo stesso commentate e se volete qualcosa chiedete nei commenti oppure iscrivetevi al mio gruppo Telegram ciao belli ciao a tutti ciao a tutti